Qual è l'Italia che immagina? L'Italia che immagino? È nei miei sogni l'Italia che immagino. È un'Italia che c'è mai stata. Sì, forse negli anni 70. Mi immagino un ritorno agli anni 70. Perché gli anni 70 passano come gli anni di piombo. Invece sono gli anni in cui abbiamo sperimentato, elaborato e creato artisticamente una quantità di roba che ha influenzato Mezzomondo. E che oggi Mezzomondo ce lo sta restituendo. Tra i migliori artisti in teatro e in cinema, sicuramente. E i famosi, forse anche in politica, i famosi laboratori politici. Quest'Italia non c'è più. Ed è un gran peccato che non abbia valorizzato questa potenzialità, anzi no, questa sicurezza in cui vivevamo. Anzi, ha fatto di tutto per dimenticare gli anni 70 e per farli passare soltanto come anni di piombo. E invece nella televisione, cosa le manca? Della televisione di Voglino e Gugliel? La pubblicità, che non c'era. Cioè, nel senso che... Credo che Avanzi sia stato l'ultimo programma, non a caso, in cui non c'era pubblicità. Né occulta, né... E ho sempre apprezzato la scelta delle autrici, visto che noi facevamo la presa in giro della pubblicità, di non accettare la pubblicità dentro. Però di fatto questa cosa ha chiuso un ciclo. Da lì in poi i messaggi promozionali... Certo, non immagino la Dandini che promuoveva un caffè. Non ce la vedo, ecco. E cosa le manca di quella televisione? Cosa adesso non c'è di quella televisione lì? Beh, il discorso è un po' personale. Come attore non mi manca niente, non mi manca più di tanto. Come persona invece civile, come uno che guarda la televisione, mi manca questo aspetto sperimentale. Mi manca il fatto che non riusciamo più a produrre qualcosa nostra di originale e andiamo a rubare i format dall'estero.